Se andiamo ad analizzare queste cinque partite dove tre volte siamo passati in vantaggio e non siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato vuol dire che bisogna lavorare di più sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto della concentrazione, sotto l'aspetto della fisicità, sotto l'aspetto dell'attenzione perché poi comunque penso che il primo tempo, dopo i primi dieci minuti, l'abbiamo gestita bene, siamo passati in vantaggio, siamo riusciti anche a contenerli perché comunque poi l'Arta Mura è una squadra molto fisica e si è vista nel secondo tempo dove poi l'ha vinta lì. In questo momento qui bisogna solo cercare di lavorare, lavorare, cercare di uscirne fuori quanto prima, situazione in questo momento qui è così dobbiamo essere bravi a reagire, il nostro lavoro è assolutamente bisogna cambiare rotto ma soprattutto bisogna essere bravi a gestire le situazioni. Oggi era fondamentale portare a casa i tre punti, nonostante lo zero in classifica in queste quattro partite abbiamo fatto delle prestazioni importanti anche l'ultima colpe d'evento, ci mancava la ciliegina che è venuta oggi, sembrava una partita stregata perché come hai detto tu abbiamo fatto 25-30 minuti benissimo dove dovevamo stare in vantaggio, alla prima disattenzione abbiamo preso gol e poi la squadra secondo tempo è venuta fuori alla grande meritando ampiamente il risultato.